Mi presento, sono Stefano Marcandelli, il presidente di questa società, Technobody, che sta facendo qualcosa di molto particolare nel fitness, si chiama Health Fitness 2.0, è un po' una rivoluzione. Il prodotto in questo caso sta parlando da solo, direi, quattro macchine, la macchina statica, la macchina dinamica, la macchina per il tronco, la macchina per le catene. Quattro macchine che poi cosa servono? Servono per fare il checkpoint posturale, cioè come noi ci sentiamo a livello posturale, e fare il training posturale. Il 90% delle patologie oggi è dato da un assetto posturale scorretto, quindi abbiamo la prima macchina che permette di fare, se volete, il classico filo a piombo che si faceva per vedere come stiamo dritti, si chiama la macchina statica, questa. Passiamo con la macchina dinamica, come vedete il signore sta cercando di gestire il suo equilibrio, quindi in modalità dinamico, quindi a livello si chiama senso motorio proprio progettivo, quindi come si fanno con le classiche tavolette di legno. Postazione numero tre, andiamo a fare il tronco, quindi ci si siede, in questo caso viene, il paziente fa un esercizio con la pelvi come si fanno sui palloni classici Bobat, c'è anche questo sensore come vedete si può mettere sul tronco per vedere lo sbilanciamento del paziente, l'assetto quindi della parte del core, quindi del tronco. L'ultima postazione è collegata per vedere le catene, il paziente e il cliente si stende e si vedono le catene posteriori della catena, quindi muscolari, più sei rigido più hai problemi, più sei asimmetrico hai problemi, quindi tende di fare uno stretching dinamico. Tutte queste informazioni finiscono nel server, che vedete là in fondo, per fare il checkpoint, per poi dare un report al nostro cliente di com'è la sua postura, di com'è il suo controllo, che da qui può essere indirizzato per fare determinati programmi e determinati processi su tutte le macchine. Ecco, una realtà direi in forte evoluzione nel mondo dell'Health Fitness 2.0. Grazie.